I centri della terapia del dolore della nostra ASL non saranno smantellati ma per legge dovremo utilizzare nuovo personale da assumere con avviso pubblico per rimpiazzare quello attuale di prossima scadenza fornitoci dalle agenzie interinari. Ad affermarlo il direttore generale della ASL Avezzano Sulmona L'Aquila Giancarlo Silveri sull'appello di non trasferire il personale formulato in una lettera aperta da una donna che ha avuto suo marito malato terminale ricoverato a Sulmona. Non c'è alcuna intenzione di sopprimere i centri della terapia del dolore spiega Silveri ma per poter continuare ad operare così come imposto dalla normativa dovremo assumere personale inserito nelle apposite gradatorie di legge al posto di quello attuale in servizio con contratti interinali. Pertanto agli infermieri che oggi lavorano al centro della terapia del dolore al cessare del loro contratto interinale subentreranno nuovi operatori da assumere con l'avviso pubblico il cui espletamento comporta determinati tempi tecnici. Vogliamo esprimere agli infermieri che oggi lavorano nei due centri della terapia del dolore dell'azienda sostiene ancora il manager tutta la nostra piena riconoscenza per la professionalità la dedizione e l'impegno che continuamente mettono e dimostrano nello svolgimento del loro compito e che ringraziamo di cuore tra la cessazione dei contratti interinali degli infermieri ora in servizio e i tempi di assunzione del nuovo personale tramite gradatoria non c'è coincidenza di tempi sarà quindi necessario attendere la conclusione dell'iter amministrativo dei nuovi assunti per continuare ad assicurare la prosecuzione dell'attività dei centri. Compiuto questo passaggio stabilito non dall'ASL bensì dalle disposizioni contrattuali e di legge conclude Silveri l'attività della terapia del dolore proseguirà regolarmente. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti